Ci dobbiamo ritirare. Mina Zilli aveva provocato la reazione contrariata della giuria quando nella quinta puntata di Ballando con le stelle aveva comunicato di volersi ritirare dallo show. Era troppo condizionata da un infortunio che inficiava in maniera importante il suo modo di ballare. La cantante, in coppia con il ballerno Pasquale Larocca, ha pagato una serie di problemi fisici sorti durante le prove, tre costole fratturate e un edema al piede. Ha voluto comunque tentare l'esibizione nel corso della puntata di sabato 26 ottobre. Al termine è però scoppiata in un pianto, non posso più continuare, non ce la faccio più. Sono così arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene. Le sono anche stati assegnati voti altissimi, come i dieci di Zazzaroni e Canino, per cercare di convincerla a prendersi una pausa e per non farle dire addio alla gara. Tutti ora si chiedono se Nina Zilli riuscirà a prendere parte alla sesta puntata di Ballando con le stelle, in programma sabato 2 novembre. Lei aveva già rassicurato i suoi fan parlando insieme a Pasquale Larocca nel canale ufficiale della trasmissione. Non è un addio, è un arrivederci. Poi è arrivato l'invito di Caroline Smith ai microfoni di 5 in condotta su Rai Radio 2. La presidente della giuria dello spettacolo di Milli Carlucci, ospite di Serena Bortone e Francesco Kundari, ha esortato la cantante, spero che possa continuare a ballare, magari con moderazione, perché è brava. Ci sarà. Lo scopriremo solo stasera, alle 20.35 su Rai 1. E voi cosa ne pensate?